Inizio, 2, 1, inizio e ripetendo! Come potete giocare tutte e cinque le classi? Beh, la cosa assurda è che per entrare ci ho messo 27 minuti perché Diablo 4 è completamente online, è una sorta di MMO e per un gioco, diciamo, single player, oddio, potete gruppare, incontrate gente, però di base aspettare, vabbè, e questa è la prima cosa. La seconda cosa assurda che ho trovato in questo inizio è che la closed beta che era usufruibile da chi aveva acquistato il gioco, si poteva giocare con tre classi, mentre per tutti, tutte le classi sono disponibili, questa è una cosa assurda, sarebbe stato più logico il contrario. Comunque, 27 minuti non sono neanche tantissimi, comunque il gioco uscirà a giugno, costa una badirata perché costa 70 euro, la versione base, poi vabbè, magari su Instagram si troverà anche a meno. Diciamo che Diablo è sempre interessante, io credo che il giorno in cui uscirà sarà dura per tutti entrare, diciamo, il giorno stesso dell'uscita, secondo me, prevedo io. Comunque, io ho scelto di fare il necromante come ho fatto anche in Diablo 2 e in Diablo 3. Io ho finito l'1, il 2, il 3 non l'ho mai finito, ma lo finirò sicuramente prima di pensare, anche solo valutare, di acquistare il 4. L'ho iniziato da pochissimo, ho fatto appunto il necromante perché mi piace, diciamo, avere gli scheletri e avere appunto i pet da utilizzare. Abbiamo la mappa, la natura di questo Diablo 4 sarà, diciamo, qualcosa di simile all'open world. Qua ci sono le mappe, non è come i precedenti dove c'è l'hub e poi andate con il viaggio rapido, insomma, nella regione, come succede anche in Green Dawn. Io sto giocando, tra l'altro, anche Green Dawn, quindi me lo sto giochicchiando così e un confronto è d'obbligo. Ma questa è una beta, quindi, insomma, non c'è ancora molto. Qua ci sono le varie sfide da completare, quindi è un gioco che strezza l'occhio anche con completazionisti. I nostri contatti, gli amici, il clan, potete fondare un clan, quindi questa denota la natura MMO del titolo. Io ho la possibilità di evocare uno scheletro col tasto 1, però ne posso vedere al massimo 4 al momento, e ho questo attacco che si chiama Emorragia, che fa esplodere il sangue di un nemico, ed è stato abbinato all'attacco 1, quindi è una sorta di passiva. Col tasto spazio possiamo fare la corsa, quindi ha una connotazione più action rispetto agli altri Diablo. E graficamente devo dire che è molto molto carino, molto bello, l'ambientazione innevata è molto suggestiva, molto bella. Questa beta non ha le frasi doppiate, quindi non so dirvi se sarà in italiano o meno, lo si spera. Col tasto qua abbiamo la pozione di cura. Qua abbiamo il nostro personaggino, come vi dicevo, le abilità, l'albero di abilità, non mi ispira tantissimo, dico la verità. A livello 50 si sblocca quello delle eccellenze, al momento abbiamo questo, quindi al momento io ho preso l'abilità Punto Emorragia, le altre mi ispiravano meno, possiamo poi andare a prenderne altre, ed è un albero legato alla mia classe, quindi un po' diciamo di abilità ce ne sono. Qua vedete che ce ne chiede tantissimi di punti abilità, quindi... E come prima missione abbiamo il dungeon, dove si entra qui. Guardate che belli gli effetti di luce, non è eccessivamente pesante da quello che ho visto, adesso vi faccio vedere anche le mie impostazioni grafiche, non ho scelto niente, sto giocando in finestra a schermo intero, sincronia verticale attivata, altro non ho toccato nulla, quindi non ho il DLSS, lo sto giocando a alta, non è personalizzata, quindi alta è la migliore. E devo dire che è uno dei pochi giochi che gira veramente bene rispetto anche solo a No Ghost Legacy che è medio alto, insomma, nonostante una 2080 che fu un investimento di qualche anno fa. Allora, intanto abbiamo, si è aperta la mappa contestuale, diciamo, del luogo in cui ci troviamo, e dobbiamo come missione esplorare le profondità di queste rovine dell'urlo raggelante. Due porte, cose che mi piacciono molto. No, devo dire che comunque è bellino, bellino davvero. Graficamente è bello e ho fatto un livello subito. La prima cosa che noto rispetto anche solo a Green Dawn è molto meno confusionario. Green Dawn mi sta piacendo un sacco e probabilmente potenzialmente ha, per quanto non abbia questa natura MMO di Diablo, ha comunque, secondo me, più varietà, più combinazioni, più build rispetto a Diablo, però di contro ha una grafica un pochino più brutta che non lo aiuta nelle sezioni più concitate dove inizia ad esserci vegetazione. Via, 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 via. Carina come cosa, perché... Va bene. Tanto qua abbiamo una classica pozza, sì, della vita, ma al momento non mi serve. Voglio dare un'occhiata qua intorno. Questa, ecco, voleva essere un video un po' diverso. Poi, online avrete sicuramente trovato gente che ci faceva le live, che si spolpava a tutti i livelli di questa beta, doveva esserci l'atto 1, ma quello che vorrei dirvi io, insomma, sono le mie impressioni così. Appena avviato, mai provato, e sono arrivato a casa, ho aspettato questi 27 minuti precisi, perché alla fine non ci sono stati ritardi, e appunto vi do le mie prime impressioni. Se penso di comprarlo, vedremo. Di base, vi direi di sì, a patto che io finisca Green Dawn, e che abbia voglia ancora di Akens Dash, che abbia voglia di finirmi il 3, e appunto, se la risposta è sì, a tutte queste prerogative, vi dico di sì. Magari non a prezzo pieno, però. 70 euro non se ne parla. Non dico che non li valga, però 70 euro, non è troppo. E riguardo a qualche streamer che lo ha definito un po' un DLC, insomma, un'espansione di Diablo 3, non l'ho giocato abbastanza al 3 per poterlo dire, ma direi che le basi, per dichiararlo, ci potrebbero anche essere, perché non vedo ste grandi novità. Insomma, è Diablo. È Diablo, è Diablo come caratteri, è Diablo come un sacco di cose. Però, insomma, è bellina la grafica dell'equipaggiamento. Infatti adesso, vedete che vado a cambiare, cambia il colore. Vabbè. Ho la spada a due mani, che posso equipaggiare. Vediamo adesso subito se... Dovremmo avere più DPS, però stiamo girando due mani adesso. Vediamo come ce la caviamo con questa spadina qui. Intanto abbiamo distrutto, ucciso tutti. Mi curo, no, perché tanto non ho bisogno. Dovrebbe esserci più verticalità. Ed si vede, perché comunque stiamo scendendo nei corridoi corroti. E mai fanno impazzire tutti questi nomi che vengono dati ai luoghi. Vediamo. E direi che... La spadina rende... Gli effetti di luce sono meravigliosi. Questo devo dirlo. Poi sicuramente non me lo giocherò tutto. Me lo dico già, perché non ho intenzione di spolparmi niente. Voglio farmi un'idea. Il gioco è sempre ottimizzato bene. Il dubbio è quello che hanno un po' tutti. Ci sarà, avendo questa natura da MMO, insomma, quindi con le varie... Chiamiamole gilde, i dungeon, avrà un endgame da fare in gruppo? Avrà delle cose magari intriganti o no? Alla fine? Questo, non so dire, è una grande domanda che si stanno facendo tutti. Poi vabbè, a me per prendermi ci vuole poco, nel senso che è bastato quella distesa innevata, la bufera di neve, per dire cavoli che bello, che atmosfera. E anche qua dentro devo dire che se il gioco avrà modo di creare ambienti differenziati, sarà eccezionale. Beh, lo dico tra l'altro da non appassionato, devo dire che ultimamente gli Haken Slash mi stanno rilassando molto perché è un qualcosa che tu fai perfezione il tuo personaggio, lo provi, ma bene o male tante volte hai occasione di rilassarti tra un grande scontro e l'altro, magari ripulendo le zone, facendo combattere i minion, insomma, poi i boss sono certo impegnativi, però con calma magari ti pulisci bene tutto, looti, soddisfi quella voglia da looter di aprire forzieri, guardare, confrontare equipaggiamenti, cioè è alla base della Haken Slash questa meccanica. Intanto io, vedete, io parlo e vado avanti tranquillamente picchiando, poi magari un approccio diverso sbagliato, insomma, bisognerebbe avere un approccio diverso per giochi di questo tipo, però è molto bello. Non ho visto, ok, qua, mannaggia, me ho bevuto, qua vedete che ci sono lì i mot per salutare la gente, vi faccio vedere anche dinamica di gioco con tutti i menu, i comandi, ci saranno le cavalcature, quindi come vi ho detto denota comunque una una parte da MMO, c'è il negozio, il diario con J, classico tasto, Shift S con il pannello delle abilità, gli scompartimenti, usa pozione, ne ho usato una per sbaglio, tra l'altro, qua abbiamo il sistema, gli input è giocabile anche col pad, quindi credo sia giocabile anche da quelle persone che non amano muoversi con il mouse, io adesso qua ovviamente ci sarà qualcosa, non c'è il doppiaggio, devo eludere l'attacco, abbiamo uno sconto con il boss, con i miei scheletrozi, è utile in questo caso, non serve picchiare picchiare, ma devo allontanarmi perché secondo me sta facendo qualcosa, infatti, fortunatamente la mia ahia, la mia spada fa parecchio danno, no, infatti, il barone sfregiato sta per cadere sotto i miei colpi, ecco, un difetto che ha Green Dawn ad esempio è che non riuscite a capire cosa sta succedendo perché comunque tra la grafica che non è all'avanguardia, però ho perso uno scheletro, no? dovrei avere possibilità di uscire adesso con questo piccolo ponte, e siamo usciti, siamo usciti alla taiga e torniamo da Nevesk tanto che bello, cioè questo qui è proprio bello, 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 anche gli effetti di vento è molto carino, però ecco, io non amo molto queste anteprime che poi ti lasciano mesi, tre mesi senza gioco, preferisco aspettare, insomma, godermelo completo, insomma, nella Chiarina sono libero al vostro borgo e al sicuro, davvero, apre la luce su un drone nel cielo, bene, mi dispiace ma non abbiamo denaro, però possiamo offrierti dello stufato, ottima compagnia e una bella pinta per togliere il sapore dello stufato, saremo onorati se tu inissi a noi. Sì, c'è il boccale che sta su da solo, ma è la forza della magia della necromanzia. Sì, già con questa parte social abbiamo fatto un cutscene diversa da tutti gli altri diablo ma è tutto pianificato, come siamo loschi, vidi il mio cadavere e l'odio strisciava fuori dalla mia bocca. Un padre bruciava i figli su una piera e con le ceneri una madre plasmava una nuova era. Ha qualche scatto adesso ma probabilmente magari è dovuto ai caricamenti online o cose del genere. Vidi i deboli diventare forti, un branco di agnelli divorare i lupi, lacrime di sangue su un gioiello del deserto e la via per gli inferi devastata. Io posso tenendo premuto Esca saltare e ritrovarmi di nuovo qui e con Jay posso andare a vedere oh, aspettate che ah, questo è il tipo di prima ci stanno era tutto pianificato va bene questo missione 4 su 7 menù qua sembra abbastanza simile a quello solito mappe questa andiamo qua non ricordo dovevamo prima comunque adesso hanno cercato di farci la pelle quindi sì ho saltato il video perché comunque non odio dirvi che non voglio spoilerare in realtà parlare questo Joseph poi non è tradotto tutto ancora sono tornato da rovine proprio come te ho ripreso i sensi sono fuggito ho cercato di entrare nella cappella ma era chiuso che male questo petto di sangue devono avermi fatti mangiare un rituale blasfemo come l'hanno appreso va bene va bene intanto dobbiamo prendere la chiave e aprire la porta da questa chiave della cappella ok c'è l'inventario con tutto l'eccopaggiamento un'armatura bellina l'armatura poi da vicino si vede anche bene mi mette freddo solo a a guardarlo petali strani la macchietta all'interno mi affetta mi sembra molto più dinamico come tipo di gioco rispetto ai classici diablo dove avete la missione fine insomma quindi c'è un qualche scattino però c'è la cutscene dovrebbe poi essere anche doppiato ma non in questo caso credo si comunque sembra molto più dinamico come tipo di gioco non schematico come i classici diablo e anche ora insomma le cutscene sono pesantissime si vede che comunque è un po' pesante e qui non è doppiato non c'è nessun audio comunque posso ripartire da qui e vedete che poi potete usare col tasto invio alla chat e comunicare con un'altra gente a rivedere i dialoghi quindi ragazzi io ho voluto farvi vedere questi primi minuti del gioco giusto per farvi vedere un po' neanche i menu perché alla fine non abbiamo visto niente abbiamo dei punti abilità non spesi possiamo andare a prendere dobbiamo prendere ancora un punto di questo quindi possiamo mettere mona g5 o rinforzata prendo un punto lì e ho sbloccato questo perché mi serviva a spendere ancora un punto quindi possiamo andare a prendere qualcos'altro lancia ad ossa che dovrebbe essere un grande classico delle classi delle abilità di diablo e la possiamo trascinare sotto ma non possiamo perché non abbiamo ancora lo spazio qui abbiamo la lancia ad osso che è questa è un'area in cui non possiamo perché siamo obbligati ok questa è la lancia ad osso a sette punti abilità avremo modo di sbloccare la seconda abilità qui il secondo slot rapido al momento devo andare ogni volta nelle impostazioni qui e lanciare quello degli scheletri anzi tra l'altro dovrei anche andare a recuperarmelo no gli animi a scheletro col tasto destro me l'ha messa qua quindi mi è più comoda perché posso ok però massimo 4 quindi carina la lancia ad osso che dovrebbe esserci anche negli altri diablo ragazzi io chiudo qui perché volevo giusto darvi un input darvi il mio parere sui primi minuti del gioco è un gioco che senz'altro terrò in considerazione quando uscirà a giugno non penserò di prendere quello che mi darà l'early access non ho una tal passione per questo genere per prendermi l'early access di 4 giorni quello che è aspetterò e vedrò che cosa quanto mi piacerà insomma gli hack and slash ma intanto vi invito se siete arrivati fino alla fine di questo video a rilasciarmi le vostre esperienze riguardo gli hack and slash se vi va di raccontarmi quelli che vi sono piaciuti di più le vostre esperienze di gioco insomma in modo da potermi magari far appassionare ancora di più a questi titoli e soprattutto se non ho citato giochi a cash and slash validi oltre a green dawn diablo insomma che vi sono piaciuti vi prego fatemelo sapere qua sotto e ultima cosa ma non ultima se avete provato Diablo 4 o questa open beta che cosa ne avete pensato se siete d'accordo con quanto ho detto finora quel poco che ho detto o se no fatemi sapere e alla prossima ciao ciao